buongiorno buongiorno e buon sabato 28 maggio e c'è ancora l'onda lunga delle dichiarazioni di Paolo Maldini. Ieri molti tifosi, tanti amici, qualche collega mi scriveva tutto rovinato, la festa dello scudetto, io vi ribadisco il concetto, chiaro che ne parliamo, chiaro che è un tema, chiaro che le parole di Maldini vedremo quale reazioni concrete, se reazioni concrete ci saranno, la reazione concreta può essere quella di un rinnovo del contratto, ma più probabilmente si aspetterà ancora la settimana prossima quando ci sarà un cambio di proprietà. Il concetto è che per quello che riguarda Maldini, qualsiasi sia la decisione da prendere bisogna fare in fretta, bisogna fare in fretta perché c'è il mercato che ribolle, in questo momento è il periodo più importante del mercato perché si semina, si è già seminato a marzo, aprile, a maggio, all'inizio di maggio, adesso bisogna seminare per raccogliere a giugno, perché il mercato di luglio e agosto è un mercato delle opportunità, non c'è raramente, è chiaro che il Milan è stato spesso protagonista nei famosi tre giorni di Adriano Gagliani, chiamati tre giorni del Condor, dal film con Robert Redford, però, ricordo poi il colpo per esempio di Vraimovic d'agosto, è vero, è vero, però intanto io voglio ricordare anche Tomori l'anno scorso a giugno, Tonali l'anno scorso a giugno, Megnan l'anno scorso a maggio, quindi questi sono giorni caldi, quindi bisogna prendere una decisione molto rapida e far sapere a Maldini il budget che ha, bisogna aspettare la proprietà, eventualmente aspettiamo quando la proprietà, che in ogni caso la nuova proprietà come priorità, ne avrà mille di priorità, ma indubbiamente il Milan va avanti, il Milan deve andare avanti e i responsabili del mercato devono sapere come muoversi a livello di budget, è indubbio, quindi qualsiasi sia il budget, uno o un milione, bisogna dire cosa avranno di budget, ma cosa avranno di budget e soprattutto cosa avranno di budget anche per i rinnovi, signori c'è il rinnovo di Tomori, c'è il rinnovo di Benasser, c'è il rinnovo di Leao che ieri ha detto parole belle per il Milan, i primi due anni non sono piaciuti neanche a me, quest'anno è stato un grande anno, quindi ha detto parole senza ovviamente lasciar trapelare le sue intenzioni, però bisogna che i player potenziali del mercato attuale del Milan sappiano come si debbano muovere anche per il discorso Leao, per i top player del Milan e il top player in questo momento è Leao. Quando si parlerà con Ibrahimovic bisogna avere le idee chiare che proposta fargli, io mi auguro che sia una proposta tale che a gennaio ve lo vedo qua zampettare con la sua maglia numero 11, quindi questo è quello che in questo momento è secondo me la priorità, fare in fretta per prendere una decisione sul budget a Maldini, eventualmente il rinnovo a Maldini, insomma bisogna in questo dal lunedì prossimo, che sarà la settimana probabilmente dell'arrivo dei nuovi proprietari, operare in questo senso perché poi il mercato possa partire e puntare sugli obiettivi. A proposito di obiettivi, interessante questa mattina la pagina della Gazzetta dello Sport, già ieri sul sito, ieri sera, si parlava di un accordo praticamente fatto con il belga Lang, Noah Lang, giocatore che di solito a dire il vero occupa la fascia a sinistra, si dice che il giocatore sia già molto avanzata la trattativa, io riferisco, mi lasciate qualche dubbio? Qualche dubbio non mi costa nulla, quindi visto che è a sinistra, è un giocatore, attenzione, perché piace, è un giocatore sul libro del Milan, quindi non sono notizie così. Che siamo così vicini, ho addirittura già fatto 22 milioni di euro, non lo so, piace, però ha un ruolo in questo momento dove andrebbe a fare la riserva di Leao, quindi penso che ci siano delle altre priorità. Ma dicevo, interessante la pagina della Gazzetta dello Sport, con l'articolo del, tra virgolette nostro, più che altro della Gazzetta, ma anche del mio canale YouTube, Carlo Laudisa. Allora, Carlo Laudisa fa tre nomi, Petian, tre nomi interessanti, tre nomi che possono certamente solleticare l'attenzione dei tifosi rossoneri, uno addirittura clamoroso. Partiamo dal difensore centrale. Il difensore centrale potrebbe non essere Botman. Io ricordo bene quando vi ho detto Botman preso, perché gli agenti olandesi davano per scontato l'arrivo di Botman. E quindi ho detto da quello che mi risulta, quindi io non dimentico e mi dico. Adesso sembra però che la pista a Botman si sia molto raffreddata. Non so se per colpa del Lille o del giocatore, però indubbiamente, probabilmente più che indubbiamente, questi ripensamenti su Botman hanno fatto sì che Botman abbia lui stesso e lo stesso Lille dei ripensamenti. Quindi adesso sembra proprio che Botman sia più lontano. Si fa sempre il nome del Newcastle, che lui aveva già rifiutato, però se il Newcastle interviene in maniera pesante, chiaramente ecco che Botman potrebbe ripensarci in maniera significativa. Allora, Botman un po' più lontano, il nome che fa Carlo Laudisa sulla gazzetta è un nome, è Bremer, è Bremer, è Bremer. Qualcuno lo dava già all'Inter, non lo so in questo momento io dove andrà, ma piace, è sempre piaciuto al Milan. E questo nome è un nome che ha delle fondamenta ben precise, non ci sono delle conferme clamorose, ma è un altro sul libro del Milan. Quindi Bremer potrebbe essere, e sarebbe tanto, 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 perché Bremer, Tomori, Caloulou, Gabbia e Kier, beh, insomma, poi hanno le stesse caratteristiche di aggressività, di attenzione, di determinazione, di ferocia sportiva sull'avversario. E veniamo al secondo nome prima di arrivare al terzo, che è il clamoroso colpo indicato da Carlo Laudisa sulla gazzetta dello sport, e cioè il secondo è Renato Sanchez. Sembra che il giocatore possa accettare e ridurre un po' l'ingaggio che aveva chiesto, la cifra dell'ingaggio che aveva chiesto nella scorsa, nella scorsa, nello scorso gennaio, e quindi penso proprio che possa essere l'altro obiettivo di mercato. E un altro giocatore che, diciamo, potrebbe essere fondamentale sia a livello di quantità e qualità nel gioco del Milan. Aumenterebbe sicuramente sempre una grande presenza, ma anche una qualità a centro campo con la possibilità poi di stare un po' più avanzato, che indubbiamente potrebbe portare grandi benefici al Milan. C'è un altro giocatore, sempre nell'articolo, ma è un altro giocatore che vi assicuro, vi assicuro, vi assicuro, interessa al Milan anche quello, verificato, non è un nome così, poi non è che li prendano tutti, vediamo un po' chi prenderà. De Keteler, il giocatore che può giocare a destra, è un giocatore che può giocare a destra, un giocatore di grande qualità, di grande caratura, un giocatore da San Siro e sarebbe uno degli obiettivi per la fascia destra, più che Lang, anche ripeto che per la fascia sinistra. Quindi De Keteler è un altro giocatore che può interessare al Milan, un altro giocatore certamente nel mirino fra le varie scelte. Milan che sa pescare nel mercato belga e quindi De Keteler è un altro di quei giocatori. Tutti dal costo, ve lo dico, Lang intorno a 22, De Keteler intorno ai 30, Bremen intorno ai 25, Renato Sanchez invece non ha un costo elevato. E adesso veniamo a quel nome che dubbiamente fa scalpore. Il Milan, quando ha esaminato questo giocatore, come tutte le squadre più grandi, non ha avuto dubbi, nonostante gli infortuni al ginocchio. Parliamo di Zaniolo. Zaniolo che il Milan metterebbe proprio sulla fascia destra. Quindi in questo momento i due candidati alla fascia destra nel Milan sono De Keteler ma anche Zaniolo. Qualcuno dirà ma la Roma vuole 60-70 milioni. Il Milan pensa che una trattativa basata sui 40 milioni possa essere una trattativa almeno da abbozzare almeno i primi colloqui. Così sembrerebbe. Ma voi adesso direte sì, ma mi sembra che andiamo molto in alto con le cifre da investire. Ebbè, Paolo Maldini l'ha detto, servono tre giocatori di grande caratura. L'ha detto, quindi è stato un appello alla proprietà attuale e soprattutto alla futura. I tre giocatori che in questo momento esalterebbero Paolo Maldini sono Zaniolo, Bremer e Renato Sanchez. Costo, ripeto, 50-70-80 milioni di euro. Il Milan l'anno scorso poi ovviamente ha venduto dei giocatori ma poi con l'eccezione di qualche giocatore potrebbe, giocatore magari non di primissimo piano, potrebbe far scendere. E poi Zaniolo ha un altro grande appeal che magari dimentichiamo sempre. È italiano. È italiano. Lui è italiano. Quindi questo ha un grande significato perché il Milan ha il problema anche degli italiani. Questi sono i nomi fatti dalla Gazzetta dello Sport. Nomi tutti... Zaniolo no, ma su De Catteler anche Bremer non avevo mai saputo grosse cose. Ma sicuramente Sanchez e De Catteler sono nomi che, come lo stesso Lang, che di cui abbiamo detto all'inizio, sembra che sia già al Milan ma non ne sono, non ne sarei così sicuro. Vedremo. Sembra che sia venuto a Milano. È abbastanza esaustivo l'articolo. Venuto a Milano, visto Ricchi Massara, Paolo Maldini, col papà. Quindi sembra che la cosa sia avanti. Io, visto che gioca a sinistra, sarei ancora... Il Milan investa 22 milioni per un giocatore che giochi a sinistra, sono un filino dubbioso. Ma poi se sarà così, dirò, hanno avuto ragione. Però che si investa su un giocatore a sinistra con tutte le esigenze che ha il Milan davanti, a destra e dietro, mi sembra un po'. Però il Milan pensa anche alla quantità di grandi giocatori. E Lang è un giocatore certamente interessante, giovane, dall'ampie prospettive. Quindi dopo le notizie turbolente sulle dichiarazioni di Maldini, questi nomi, vediamo se la proprietà di oggi o la proprietà di domani potrà accontentare Paolo Maldini alla ricerca di tre o quattro giocatori che possono far salire il livello della squadra. E questi sicuramente fanno salire il livello del nostro Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.